Poco tempo per anche una tassi con la Tava Tassi Poi, già per me lo spiegato, diciamo che ci sono Molti giorni per l'ultimo, fatto il tipo 30 Molto approfittile fatto per i nostri Con anche per una gara Con Burlotti, seconda gara di stagione Il pilota dei caparelli quasi da tutto Il pilota di caparelli quasi da tutto Il pilota di caparelli quasi da tutto